Il Comune di Battipaglia, attraverso apposito avviso dinamato dal Segretario Generale, promuove una consultazione pubblica per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, comprensivo della sezione Trasparenza. La finalità, fanno sapere dal Comune, è coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione sia della fase di elaborazione sia della fase di aggiornamento. Gli interessati possono trasmettere i propri contributi utilizzando l'apposito modulo allegato all'avviso. I contributi devono pervenire entro il prossimo 18 gennaio.